Musica Terza giornata di attività al Vinitali di Verona e questa mattina lo spazio Abruzzo è stato presentato il Rosa Autoctono, una compagine che raccoglie i consorsi di tutela delle denominazioni di origine più rappresentative del settore come il Bardolino Chiaretto, il Cerasuolo d'Abruzzo, il Castel del Monte Rosato e il Salice Salentino Rosato con l'obiettivo di dare una spinta decisiva non solo dal punto di vista promozionale ma anche economico e culturale ai più significativi territori evocate la produzione di questa tipologia di vino e il Cerasuolo d'Abruzzo sotto questa veste ha un profilo unico come spiega il vicepresidente dell'Istituto del Vino Rosa Autoctono Italiano Luigi Cataldi Madonna. I primi segnali anche indipendentemente dall'estero della Costituzione del Consorzio c'erano e vedevano anche le aziende privatamente nella loro commercializzazione. Io sono convinto che l'Istituto possa fare moltissimo e speriamo di non mollare ma possiamo fare tanto, sì. Il Cerasuolo d'Abruzzo invece? Il Cerasuolo d'Abruzzo è una grandissima interpretazione della produzione rosa se facessimo capire al mondo cosa significa il Cerasuolo noi staremmo molto avanti però non riusciamo nemmeno a farlo capire agli italiani quindi forse dobbiamo cominciare innanzitutto dai problemi di casa. Prima si vince in casa, una buona squadra di calcio prima deve vincere partite interne e poi andiamo a vincere quelle esterne. Il Cerasuolo d'Abruzzo che trae origine proprio nella provincia dell'Aquila dove ci sono delle peculiarità importanti proprio per la produzione di questo vino rosa. Beh sì perché una delle caratteristiche del vino rosa dovrebbe essere quella dell'acidità essendo l'Aquila una provincia montanara sostanzialmente infatti è l'unica provincia abruzzese che non ha un accesso al mare è in un certo senso privilegiata per questa presenza anche persistente e durevole dell'acidità. La produzione in Abruzzo del Cerasuolo è in crescita e è passata da 59.238 ettolitri del 2015 a 84.324 ettolitri del 2018 con oltre 6 milioni di bottiglie l'anno. In Italia sono prodotte complessivamente 25 milioni di bottiglie. La provincia abruzzese dove la produzione di vino rosa è più alta secondo i dati del consorzio è l'Aquila. Al Vinitaly poi è stata ripercorsa la storia del Montepulciano d'Abruzzo con un volume del giornalista Giorgio Dorazio. Il Montepulciano è il vino principe di questa regione, è un vitigno che ha una storia antica, una storia avventurosa, meravigliosa, affascinante, misteriosa. È stata descritta in tanti modi e con questo libro dopo le celebrazioni dei 50 anni dall'istituzione della DOC dell'anno scorso abbiamo deciso assieme al Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo e alla regione Abruzzo di fare un po' il punto su quelle che sono le origini di questo straordinario vino che è un motore economico ma anche culturale per l'Abruzzo. Lo abbiamo fatto con un taglio divulgativo avvalendoci di fonti bibliografiche e di fonti dirette attraverso testimonianze dei protagonisti dell'epoca e degli eredi dei protagonisti dell'epoca attraverso documentazioni inedite e abbiamo presentato un po' a tutto tondo quella che è la storia del Montepulciano d'Abruzzo e la vicenda del riconoscimento della DOC nel 1968. L'Abruzzo ha anche grandi nomi, vignaiuoli importanti? Ma senz'altro il Montepulciano è stato fatto grande da alcuni vignaioli in particolare che hanno avuto prima di altri la lungimiranza di scommettere su questo vitigno e soprattutto il coraggio di presentarlo all'estero con grande caparbietà, penso ad Edoardo Valentini, ad Emilio Pepe, a Gianni Masciarelli ma ho fatto solo alcuni nomi, ne potrei fare tanti altri perché ci sono state varie ondate di nuove cantine o di vecchie cantine recuperate non solo dal punto di vista dei privati, dei produttori privati ma anche dal punto di vista dell'associazionismo, quindi delle cooperative e tutto ciò ha permesso oggi di avere una massa critica importante a livello produttivo e a livello di export di conseguenza che fa del Montepulciano d'Abruzzo uno dei vini più venduti al mondo. In occasione della 35esima edizione di Vinitaly in corso di svolgimento a Verona è stato assegnato alla cantina Emilio Pepe di Torano Nuovo il premio Talenti e Imprese promosso dalla Banca del Piceno. È la prima volta che il premio vi rassegnato a un'azienda vitivinicola. Allora, il sindaco De Angelis, non passa tempo che non si pone al centro dell'attenzione qualche problematica, problematiche che vengono affrontate dalla maggioranza ma qualche volta anche dall'opposizione o quasi sempre? No, è normale che in un'attività così dinamica dal punto di vista amministrativo come stiamo portando avanti noi ci sia un confronto serrato perché tante sono le cose che stiamo facendo, tanti sono anche i cambiamenti che stiamo proponendo e quindi è normale che ci sia un confronto a volte uno scontro però questo mi sembra di capire avviene perché è normale che avvenga ognuno ha il proprio ruolo? Sì, ognuno ha il proprio ruolo, noi stiamo amministrando la città quindi abbiamo un disegno chiaro di città che i cittadini iniziano a comprendere sempre di più, lo stiamo portando avanti con un cronoprogramma che abbiamo impostato dal primo giorno in cui siamo entrati, è fondamentale nella pubblica amministrazione effettuare una programmazione chiara che dia poco spazio a varianti in corso perché solo così si può ottenere in tempi ragionevoli e veloci quello che si vuole ottenere, quello che si è presentato ai cittadini, quello per cui i cittadini ti hanno votato, quindi ricostruire, riqualificare alcune parti della città, rendere più fruibile, altre attive, migliorare i servizi è un percorso che dobbiamo fare nell'arco di cinque anni di una consigliatura e io ho sempre detto che a mio avviso una delle cose più importanti della pubblica amministrazione è imprimere, accelerare, cercare di aumentare il ritmo per poter anticipare i tempi e fare le cose più in fretta. Prima di passare ai singoli argomenti, quello che le rimprovano è un po' la mancanza di dialogo con le parti interessate, commercianti, cittadini? Ma guardi, questa è una cosa che non esiste perché io sono assolutamente disponibile sempre a incontrare tutti e tantissime persone incontro, tante associazioni di categoria sono state sempre preventivamente ascoltate per fare qualsiasi cosa. La riqualificazione del centro fa parte del nostro programma di mandato, quindi abbiamo fatto una campagna elettorale spiegando che avremmo riqualificato Piazza Risorgimento, Piazza del Mercato, il Comune Nuovo, Piazza del Castello, Villa Torlonia, che avremmo riqualificato il più possibile l'asse centrale per andare incontro ai commercianti. Noi queste cose le abbiamo fatte tutte, le abbiamo dette e le stiamo facendo. Forse qualcuno era abituato a sentire chiacchiere che poi non venivano realizzate, ma questo non fa parte di me. Faccio l'imprenditore da 30 anni e il mio imprinting è quello di dire le cose ma poi farle. Per quanto riguarda i lavori, sono inevitabili i disagi? I disagi sono inevitabili, ma io ricordo che quando abbiamo riqualificato Piazza Risorgimento, la prima parte, la Fontana, noi abbiamo avuto tante critiche perché ci invitavano a farla prima dell'estate. Adesso abbiamo iniziato prima dell'estate e ci invitano a ritardare questi lavori. Io sono sicuro che alla fine, tra il primo e il secondo intervento, noi avremo una piazza più attrattiva, ma soprattutto all'altezza della città di Avezzano e di quello spazio che è meraviglioso e ci invitano tutti. La stiamo migliorando, stiamo creando il salotto della città. Le sue convinzioni sono ancora valide per quanto riguarda, naturalmente, riferite all'amministrazione per la scelta della pista ciclabile. Molti dicono che manca proprio la cultura e non ci sono le condizioni meteorologiche sempre per poterla sfruttare al massimo. Le condizioni meteorologiche no, non è un argomento perché noi sappiamo che in tutte le città europee del nord è questo un modo diverso di fare via mobilità, insomma ha preso largamente piede. Che non ci sia l'abitudine di Piazzano è una cosa scontata, però la pista ciclabile, io la definisco un qualcosa che aggiunge, non toglie nulla a nessuno. Quindi in ottica di prospettiva, di modernità, le nuove generazioni, vede, e i ragazzi, quando vado nelle scuole e faccio i miei test diretti, chiedo chi è d'accordo o contrario alla pista ciclabile. Il 90% dei ragazzi, giovani, in età scolare, dai 10 ai 17 anni, mi alzano tutta la mano a favore della pista ciclabile. Quindi c'è una voglia di andare verso la modernità. Noi la forniamo come elemento aggiuntivo e quindi ci saranno gli autoveicoli e i conducenti delle macchine, chi andrà in bicicletta e chi andrà a piedi, sui marciapiedi. Siamo quasi alla conclusione. Fra i vari obiettivi uno primario importante e difficile da raggiungere fino adesso, dopo tanti anni, è la nuova sede municipale. Pensa che ci siano le condizioni per poterla utilizzare? Noi abbiamo lavorato in questi primi 18 mesi alla Cremente in maniera molto determinata per poter trovare una soluzione a quello che tutti chiamano il comune nuovo. Sono convinto di essere a un passo dal realizzare l'atto finale di questa atavica storia che dura da più di 10 anni, con tante vicende giudiziarie intorno. Io penso di poter dire in maniera ragionevole che tra qualche mese noi rientreremo in possesso dello stabile e potremo esperire il nuovo bando per poter continuare a completare i lavori. Per concludere, non voglio fare il confessore, ma si sente tranquillo con la sua coscienza per il lavoro che ha portato avanti fino ad oggi, dall'inizio del suo mandato? Sì, mi sento tranquillo perché ho lavorato tanto, moltissime ore, sono qui in comune non meno di 8-9 ore al giorno. Poi tutto è perfettibile, tutto è migliorabile. Poi è la prima volta che io faccio il sindaco in vita mia, quindi sicuramente sto facendo qualche errore, dovrò imparare ancora molte, molte cose e cercherò di migliorare i prossimi tre anni, imparando anche da qualche errore che ho fatto in questi primi due anni, perché è normale che si facciano errori, soprattutto quando si ha un percorso di marcia così serrato e si fanno tante cose. Buon lavoro. Grazie mille, un saluto. Non si fa altro che parlare del semaforo di via 20 settembre ad Avezzano, in quanto ogni giorno il comune incassa somme ingenti derivanti da almeno 150 contravenzioni al giorno. Chi meglio di un ex sindaco o di un tecnico può parlarci e darci spiegazioni? Il dottor Gianni di Pangrazio. Sì, io penso che questa sia stata tutta prevista dall'amministrazione e tanto è vero che sul bilancio di previsione sono stati previsti due milioni di euro proprio relativo alle sanzioni al codice della strada. Noi votammo contro, noi, solo noi dell'opposizione. Ci fu anche il voto favorevole di alcuni che, pur essendo stati candidati con noi, poi hanno fatto, come altri, il salto della guaglia. Noi avevamo visto giusto nel votare contro e la prova lo sta dimostrando queste sanzioni che stanno arrivando continuamente nelle case dei cittadini. La cosa che ci spaventa e ci fa ancora più arrabbiare è che queste multe sono riferite al mese di dicembre. Dal mese di dicembre stanno arrivando con un ritardo di tre mesi, naturalmente dovute a tutta una serie di procedure, ma a dicembre fu fatta una comunicazione, ma non fu fatta una comunicazione giusta, sentita, alla cittadinanza. C'era un giornalino che faceva la propaganda con i soldi dei cittadini mandato, pubblicato, stampato e trasmesso nelle case degli avezzanesi, che naturalmente non parlava di questo semaforo killer. Perché io penso che oggi possiamo definire Avezzano una multopoli, non una città di Avezzano. Perché? Perché 150 multe al giorno sono tantissime. E quelle che verranno, quelle che saranno notificate nei mesi di aprile, di maggio, in relativa a gennaio, febbraio, marzo. Se oggi ci troviamo solo a dicembre e stanno riempendo le case, io penso che quindi questa sia una cosa assurda, preventivata. Non si pensa ad andare a trovare fondi a Roma, all'Europa, alla regione, ma è più facile multare i cittadini di Avezzano. Ma dico, i cittadini di Avezzano sono ben contenti di contribuire alla realizzazione di qualche opera, ma facciamo i buoni obbligazionari comunali. I cittadini versano delle somme e poi a fine investimento ritirano comunque il capitale. Multarli per fare delle opere, per fare propaganda, per continuare a fare dei lavori che poi dopo possono essere fatti attraverso altre forme, come ho detto prima, ma anche attraverso possibilità che sono state date ai comuni da questo governo che ha liberalizzato praticamente una parte consistente del patto di stabilità, dell'avanzo di amministrazione, dei fondi che erano prima vingolati e che non potevano essere spesi. Non capisco perché si vuole a tutti i costi tartassare i cittadini, tartassare la città, colpire la città nella propria economia, cioè togliendo veramente dalle tasche dei cittadini quei pochi risparmi che hanno. Là è facile, è facile. Anche perché uno può difendersi perché arriva all'improvviso, non è un diveto di sosta e poi ecco per vederlo in un bilancio di previsione significa che comunque... Era stato tutto previsto, ma poi la cosa assurda è che va bene fare le multe per chi passa col semaforo rosso, per chi chiaramente deve mantenere la sicurezza, è giusto che vengono fatti tutti gli accorgimenti possibili, ma quale sicurezza c'è se ci sono delle delimitazioni, delle linee di arresto doppie che non si vedono, sono tutte sbiadite e che sono state poi arretrate specialmente per chi va, e queste sono le multe maggiori, per chi va da Avezzano verso Sampelino, ci sono due strisce praticamente che non sono visibili e possono trarre in inganni e poi sono state molto arretrate. Lì non è necessario arretrarle fino a quel punto perché quello è un senso unico, quindi non viene nessuno e quindi non passano camion o automezzi pesanti e ingombrandi. Quindi ritengo che una soluzione di questo tipo sia del tutto sbagliata. Basta poi il raggio di azione della telecamera, restringerlo per colpire veramente chi passa col rosso, chi fa delle violazioni concrete sostanziali, ma non per chi per 10-20 centimetri supera la linea di arresto della mezzeria stradale. Questo mi sembra veramente voler colpire i cittadini, ma la cosa che mi preoccupa è che arriveranno altre multe e oltre ai due punti sulla patente ci saranno anche delle conseguenze serie per coloro che rischieranno veramente poi il ritiro della patente con l'accumulo di questi punti e la macchina li serve per andare a lavorare. Quindi anche su questo penso che bisogna fare qualcosa. C'è una parte, anche di una maggioranza minestrone, che chiede di discutere sul semaforo di via 20 settembre. Io anche su questo punto penso che sia, rivolgo un invito forte a quella parte della maggioranza ragionevole, per dire rivedete, fate rivedere questa scelta scellerata e a danno solamente dei cittadini di Avezzano. Non mi pare, così come è annunciato, che ci siano delle flotte di turisti che vengono a vedere la città bella, perché la città bella è chiusa e non c'è niente di bello, anzi c'è il benvenuto che si dà proprio facendo le multe a chiunque accede nella città di Avezzano. Quindi state duri, mantenetela dura, voi che potete in qualche modo creare insieme a noi un scossone a queste idee del sindaco e dei suoi più stretti collaboratori che secondo me non hanno interesse a migliorare la vita nella nostra città, ma hanno diversi interessi per i quali chiaramente noi saremo all'opposizione, saremo duri, manterremo le nostre posizioni e assicuriamo a chi chiaramente e a tutti i cittadini di Avezzano per qualsiasi cosa. Noi siamo pronti a fare qualsiasi azione, qualsiasi manifestazione che possa riportare la dignità per la città di Avezzano, la vivibilità per la città di Avezzano e soprattutto la serenità nella città di Avezzano. Con molta disponibilità il dottore Pierluigi Stefano ha accettato questa intervista dopo moltissimi anni che opera in diverse strutture, prima Taglio Cozzo, poi Alpertini, ora credo che avrebbe realizzato il suo sogno, cioè primario ad Avezzano perché è di Taglio Cozzo lei. Il mio sogno era una cosa molto importante per me perché io voglio realizzare e sto realizzando un centro di eccellenza di chirurgia con, ci sono adesso tre giovani ragazzi che stanno portando avanti la chirurgia come dico io, in modo che quando io me ne vado questa chirurgia abbia un nome e una situazione che possa permettere di andare avanti anche senza di me. Ci sono, quindi questo era il mio sogno perché io stavo a Alpertini e potevo fare anche il primario facente funzionale a Alpertini, però siccome io vengo da Panzera e è lui che ha fatto una scuola qui a... Scusa, Panzera è stato il primario a Tagliacozzo, primario di chirurgo? Primario chirurgo a Tagliacozzo, ha fatto una serie di chirurghi fra cui me e Pasquale Simone che sta alla clinica di Lorenzo, il dottor Cerone che ha fatto il primario per tanti anni, il dottor Pietrantoni, il dottor Cofini, una serie di chirurghi che adesso girano per la Marsica e quindi il mio sogno era quello di realizzare una struttura ad Avezzano degna di questo nome. Per quanto riguarda proprio questo impegno che sta portando avanti, mi sembra che ha avuto un riconoscimento molto importante, c'è l'ospedale di Avezzano, una delle poche scuole italiane dell'Associazione Nazionale di Chirurghi Ospedalieri. Merito della vostra eccellenza? Dunque, allora, qui ho la lettera, questa è la lettera in cui comunicano che il centro è stato inserito tra i centri di rocini accreditati della scuola COE, di chirurgia laparoscopica e meno invasiva, per il corso base, corso avanzato e corso avanzato parete addominale e laparocieli. Questo deriva dal fatto che noi facciamo quasi tutta chirurgia laparoscopica, noi facciamo i colon, l'80% li facciamo tutti in laparoscopia, abbiamo cominciato a fare anche gli stomaci in laparoscopia, facciamo le ernie e i laparocieli in laparoscopia, anche grazie al dottor Marchi che è venuto in questo nosocomio con mia grande contentezza, perché io sono andato a cercarla a Modena, perché lui è fra le altre cose anche un chirurgo che si occupa di robotica e adesso ci sono un po' di problemi con la robotica all'Aquila, però lui è esperto in robotica, già abbiamo fatto diversi interventi in robotica e quindi le cose vanno bene. L'altro mio aiuto è il dottor Carducci che fa ormai i retti laparoscopici da solo, quindi insomma le cose stanno andando bene e c'è giunto questo riconoscimento e noi siamo veramente felici di ciò, la prima serie di persone che verranno sarà il 30 e saranno cinque chirurghi, di cui due verranno dalla Sicilia, quindi per me è una grande soddisfazione, un riconoscimento importante e quindi... Lei con molta modestia, però diversamente se non avesse avuto le basi per poter emergere dopo tantissimi anni non ci sarebbe stato questo riconoscimento, quindi glielo dico io merito, onore al merito. Quindi mi diceva che si espriterà nella presenza di giovani chirurghi che faranno esperienza qui ad Avezzano una volta al mese. Sì, non solo giovani chirurghi, ci sono anche dei chirurghi, oggi come oggi in Italia, che non fanno la laparoscopia o la fanno in maniera molto approssimativa e quindi questi corsi servono a tutti i chirurghi, non solo ai giovani chirurghi, a tutti i chirurghi che vogliono affrontare la chirurgia laparoscopica in un certo modo, con una metodica e quindi poter effettuare la maggior parte degli interventi in laparoscopia. Noi poi facciamo un'altra cosa, io da 4 anni che faccio la fluorescenza. La fluorescenza è una metodica che ci permette di vedere la vascularizzazione del colon, dello stomaco, delle ansie digiunali e questo ci permette di avere una deiscenza dell'anastomosi del 2%, quando a livello nazionale stiamo al 10%. Noi facciamo l'80% di chirurgia laparoscopica, a livello nazionale stiamo al 30%, quindi c'è ancora molto da fare. Con questa fluorescenza noi vedendo bene l'irrorazione dei monconi riusciamo a fare l'anastomosi, cioè ricongiungere questi due monconi su un tessuto sano e irrorato e questa è la maggior parte delle volte che c'è una deiscenza, è dovuta al fatto che non è irrorato il moncone. Non solo da ottimo chirurgo ma da buon politico perché ha anticipato la domanda che volevo fare, cioè l'utilizzo della fluorescenza. All'atto pratico facilita che cosa? Facilita il fatto che l'anastomosi, l'anastomosi significa noi togliamo una parte del colon, poi dobbiamo ricongiungere i due monconi, ma se noi ricongiungiamo i due monconi e una parte di questa non è ben irrorata, l'anastomosi fallisce, fa una deiscenza e invece noi vedendo dove c'è veramente il sangue, dove l'anastomosi può essere fatta perché a occhio nudo non si vede a volte, invece con la fluorescenza, con questa tecnica, si vedono proprio i vasi e l'irrorazione del colon, per cui li ricongiungiamo sul tessuto sano e ben irrorato. Questo è il punto. Le nuove tecnologie facilitano indubbiamente il vostro lavoro, quindi diciamo che qui ad Avezzano sta ottenendo risultati importanti perché dopo tantissimi... quanti anni sono qui qui dottore? Adesso sono 4 anni, sono 4-5 anni che sono qui ad Avezzano. Il lavoro non manca? No, il lavoro non manca, sta aumentando e questo mi fa piacere perché questo significa... io devo dire la verità che quando sono arrivato ho trovato niente, non c'era un'equip chirurgica, poi piano piano si sono formati, adesso sono bravissimi tutti quanti, ma ho dovuto sudare perché queste persone che adesso arrivano e arrivano anche da Frosinone, da Sora, da Tivoli, vengono perché abbiamo cominciato a operare delle persone, le persone si sono trovate bene e hanno mandato avanti il nome della chirurgia di Avezzano. Poi sono i pazienti, quelli che formano e fanno la felicità e il successo di un reparto? Sì, fanno la pubblicità, se vogliamo, però è così, a un reparto e quindi se tu operi bene poi alla fine i risultati ti premiano. Per quanto, ecco per concludere, già detto qual è il suo sogno, restare ancora parecchio ad Avezzano, le auguro tantissimi in bocca al lupo, ma che cosa si aspetta dal futuro, soprattutto dalla struttura? Perché i manager non sempre poi ascoltano le richieste di voi primari? Io ho fatto una lettera aperta sul giornale dicendo le problematiche che ha l'ospedale di Avezzano. L'ospedale di Avezzano è un ospedale che ha 220 posti letto, quando per l'Interland che ha, cioè 150 mila abitanti, ne dovrebbe avere 400. Allora che succede? Che il pronto soccorso si intasa in continuazione e che cosa fa? Noi qualche volta non riusciamo ad operare, a volte dobbiamo trasferire dei pazienti e si dice non c'era posto in chirurgia. No, non c'era posto in tutto l'ospedale, perché noi abbiamo dei posti anche di appoggio, quindi se c'è un'urgenza, noi la facciamo assolutamente. Un'urgenza indifferibile la facciamo, magari la facciamo stazionare anche in sala laboratoria. Però il discorso è che non c'è un posto in tutto l'ospedale. Io questa notte sono stato fino a mezzanotte per un caso importante che deve essere operato e che la operiamo questa mattina. Noi abbiamo 20 posti letto, avevamo 23 posti letto in chirurgia e non c'era un posto letto in tutto l'ospedale. Mi permetto di dire una cosa? Qua bisogna fare 20 posti letto di medicina d'urgenza. Che significa? 20 posti letto dove i pazienti possono rimanere una settimana al massimo. In questa settimana però si deve fare la diagnosi. È chirurgico? Va in chirurgia. È medico? Va in medicina. Sta a posto? È tornato tutto a posto? Va a casa. Questo è l'unico modo per smaltire il pronto soccorso, perché seppure tu ci metti altri e quattro medici, ma poi non ci sono i posti letto. Questo purtroppo, lo dico io, sono le conseguenze di decisioni che sono state prese a livello politico con la chiusura degli ospedali di Pescivetto di Acozzo. Come diceva lei, 160.000 utenti che gravitavano su tre ospedali ora fanno il riferimento ad Avezzano. Basta vedere, non c'è un posto per parcheggiare la macchia a distanza di due chilometri. Allora, il discorso è una politica sanitaria sbagliata. Lo affermo per il passato, adesso non so che cosa faranno, però per il passato, per esempio, c'erano quattro cliniche convenzionate. No, io non ce l'ho con le cliniche convenzionate, però quattro cliniche convenzionate e tre ospedali. Che hanno fatto? Hanno chiuso due ospedali. Le cliniche convenzionate sono rimaste, ma c'era stata una clinica convenzionata, che era la Santa Maria, mi pare che si chiamasse, che ha chiuso i posti letto, sono stati dati alla clinica di Celano. Questo è assurdo, quei posti letto dovevano entrare in ospedale. Noi adesso poi abbiamo questa struttura che è obsoleta e tutte le volte che noi chiediamo delle trasformazioni, io devo dire che ringraziando Dio mi hanno aiutato la ALS per sistemare un po' il reparto, però ti dicono ma questo non si può fare perché adesso si fa il nuovo ospedale. Ci vorranno almeno dieci anni. Dico che ci vorranno almeno dieci anni, ma sono vent'anni che ce lo promettono il nuovo ospedale a noi marsigani. Sono vent'anni e qua questo ospedale diventa sempre più vecchio. Con la tenacia che ci contraddistingue le faccio buttare in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi. Arrivederci.